dunque so che girano delle voci secondo le quali la banca non ci finanzierebbe più ebbene io sono qui per mettere a tacere quelle voci perché sono fondate e a proposito di soldi non abbiamo soldi quindi come ci arriveremo sulla luna la risposta è chiara non ci arriveremo siamo condannati probabilmente questo sarebbe il momento giusto per cercare un altro lavoro